25 febbraio 2023 ultimo messaggio di san michele arcangelo all'azze maria nazioni che possiedono armi nucleari conoscono il male che causeranno anche in questo messaggio donato da san michele arcangelo all'azze maria si descrive un periodo estremamente difficile per molte nazioni e si accenna a una guerra nucleare che viene portata avanti da coloro che sanno benissimo il male che causeranno al mondo intero un messaggio molto preoccupante il cui in cui il principe delle legioni celesti ci invita a pregare il santo rosario e a invocare la divina misericordia che spesso viene dimenticata chi ha fede in dio può sperare di salvare la sua anima ma bisogna comunque pregare per tante persone affinché possano convertirsi leggiamo il messaggio amati figli del nostro re e signore gesù cristo vengo a voi per volontà divina vengo con le mie legioni angeliche figli del nostro re e signore gesù cristo siete amati dal vostro re siete amati dalla nostra regina madre vi invito a riflettere sui vostri atti e sulle vostre azioni la vita consapevole della quaresima è una benedizione per l'anima della creatura le continue lotte intestine continuano ad essere la causa scatenante tra le nazioni che possiedono armi di distruzione di massa le nazioni che possiedono armi nucleari sono pienamente consapevoli del male che causeranno mantenete la pace la comunione con i vostri simili e siate creature di preghiera che cercano di rimanere unite al nostro re e signore gesù cristo e alla nostra regina madre pregate figli del nostro re e signore gesù cristo pregate per la francia che soffre molto per il fuoco dei rifiuti figli del nostro re e signore gesù cristo mantenete la pace nei vostri cuori nei momenti forti per l'umanità momenti in cui la terra continua a muoversi con forza in un luogo o in un altro l'acqua porta dove il sole cocente soffoca le creature umane ma il sole porta a grandi incendi nutritevi spiritualmente crescete nella fede pregate il santo rosario pregate figli del nostro re e signore gesù cristo pregate per l'equado per l'argentina la sua capitale sarà scossa con forza per il perù e l'america centrale sono scossi per il messico e fortemente scosso per l'asia soffre e scossa e l'acqua entra non vogliono credere omettono di conoscere le chiamate della volontà di dio e vogliono solo che parli loro dell'infinita misericordia divina la divina misericordia è infinita e solo la santissima trinità sa fino a che punto si realizza in una creatura umana senza dimenticare la nostra regine madre della divina misericordia intercessore per tutta l'umanità invocate la misericordia ma cambiate figli del nostro re e signore gesù cristo cambiate nelle vostre azioni e nei vostri atti siate creature di bontà e di preghiera affinché la vostra fede non vacilli gridate affinché siate uniti nella preghiera e nella preghiera confidiate di non essere indifesi ma di essere custoditi dalle mie legioni celesti la nostra regine madre dei tempi finali vi tiene nel suo rifugio materno siete la pupilla degli occhi di dio figli del nostro re e signore gesù cristo non temete siate uniti alla santa trinità e alla nostra regine madre non temete in mezzo alla pestilenza già presente sulla terra pregate con il cuore e usate le medicine che avete ricevuto dal cielo allora la pestilenza sparirà e voi sarete sani in mezzo alla carestia le mie legioni porteranno alla creatura umana il cibo che soddisfa la fame non temete dio non vi abbandona le mie legioni sono pronte ad aiutarvi la casa paterna e donata ai suoi figli tenete presente che il bene è più grande anche quando vivete in mezzo alla guerra il bene è più grande e sperimenterete veri miracoli vi lascio nella pace divina vi benedico san michele l'arcangelo e le mie legioni angeliche ave maria purissima concepita senza peccato anche se ti capirà